Nell'era di internet e della fruizione di informazioni in tempo reale, il nuovo rapporto Agicom racconta dei nuovi ingressi nel settore della comunicazione multimediale, radiofonica e televisiva e su come i cittadini italiani preferiscano le emittenti locali alle reti nazionali. Più dell'80% degli italiani dichiara di servirsi di canali televisivi, radio, giornali e multimediali per avere news della regione, provincia o comune in cui risiede. L'attenzione verso l'informazione locale emerge dai dati raccolti su un campione di 14.000 cittadini con almeno 14 anni in età. In Abruzzo, a pari merito, coabitano quotidiani locali e tv locali, che sommati raggiungono il 50% del campione, alla Raiva il 46% delle preferenze, il 35% alle radio locali, siti web o app. Secondo il rapporto Agicom, questo accade perché gli utenti cercano sempre più informazioni mirate, circoscritte e specifiche da parte di un pubblico che vuole conservare l'appartenenza alla propria comunità locale. Il presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, commentando i dati, spiega che in base allo studio Agicom è evidente come i cittadini scelgano l'informazione locale. Per il futuro è necessario, conclude Lucci, investire su palinsesti, qualità, giornalisti e tecnologie per garantire un'offerta formativa all'altezza. Grazie.